Buongiorno Fagnano, eccoci con il video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Diamo una serie di informazioni. Sul sito del comune o venendo direttamente in comune al front office chiedendo informazioni c'è la misura del sostegno degli affitti per le persone che fanno fatica a pagare l'affitto della propria casa. È una misura che è stata pensata per andare incontro alle famiglie in difficoltà. La domanda va presentata entro il 16 dicembre dell'anno in corso. Sempre sul sito internet del comune oppure chiedendo sempre al front office è uscito il bando per i contributi per le associazioni comitati e simili per l'anno 2022. La domanda va presentata entro le ore 18 del 12 dicembre del 2022. Per qualsiasi informazione sulla sezione news è ben specificato cosa fare e cosa chiedere. Per quanto riguarda la situazione cantieri si sono conclusi i lavori della pista ciclopedonale di via Liserta. Ad oggi nel nostro territorio si può raggiungere il Parco Bambini di Beslano oppure il Parco Avisaido seguendo un percorso protetto. Gli eventi della settimana oggi è il giorno di San Martino. Questa mattina c'è stato un momento di preghiera davanti alla Cappelletta di San Martino in piazza Matteotti. Oggi pomeriggio a cura della Proloco dalle ore 16 alle ore 17 la visita alla Cappella di San Martino. Sabato 12 alle ore 17 all'interno di Spazio Optium di via Patrioti l'inaugurazione della mostra colore viola. Sabato sera ore 20.45 all'interno della rassegna Caffè con l'autore nell'aula pluriuso della biblioteca il libro di Silvio Foini, Morbus, una storia ambientata all'interno della storia del contatto del Seprio. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti!